Corso Fogazzaro in fin di vita, l'angue il commercio, molte le saracinesche abbassate, la strada, il cardo di latina memoria che incontra il decumano Corso Palladio si sta spegnendo. Per rianimarlo non bastano più eventi, manifestazioni, serve un colpo di reni, serve un cambio di passo nel vero senso della parola, ovvero passare da strada preferenza pedoni al ritorno delle auto nella via. Certo, con tutte le accortezze, con magari una ZTL a soffietto in certi orari della giornata, mentre in altri vi sia il via libera alle auto. Un azzardo? Forse, ma l'idea non dispiace ai commercianti, in particolare a quelli alla fine del corso i più penalizzati. Il Corso Fogazzaro è parte integrante del centro vicentino, quindi forse i problemi più incombenti sarebbe quello di riaprire a un unico senso di circolazione la parte bassa verso la zona Carmini. Aumenterebbe un attimo il flusso di gente. Secondo me è un'ottima idea, soprattutto magari anche il venerdì sera, il sabato sera, quando magari c'è la possibilità di aprire le piazze, aprire il giro delle macchine. Secondo me può essere una cosa molto molto valida per il centro storico di Vicenza, assolutamente. Oltretutto anche direi aprire il parcheggio in piazza San Lorenzo, sarebbe esenziale se vogliamo far rivivere questa zona di città che sta morendo. Per me se ci fosse ancora un po' di macchine non farebbe male per dargli un po' di vita a questa via. Ed anche chi quattro anni fa era stato favorevole alla pedonalizzazione, oggi... Era bella l'idea di farlo diventare un appendice del centro proprio storico come passeggiata, però col senno di poi devo dire che questa cosa non ha funzionato. Quindi arrivare con la macchina... Sì, sì, sì. Non sfrecciare l'educazione che è alla base di tutto, però sì, sì. Sta morendo ed era veramente un pezzo di cuore di Vicenza.